e questo arco del trionfo fu costruito in quegli anni quando gli artisti locali andavano a Parigi a conoscere la vita bohemia come per esempio Picasso, l'artista spagnolo è venuto qua quando aveva 12 anni, in quegli anni quando avevano costruito l'arco del trionfo è difficile da vedere ma alla fine di questa via vediamo la torre di Cristoforo Colombo è scura così in contrasto con il colore della montagna di Mongiglia, sotto non si vede bene ma forse qualcuno potete vederla ok adesso scenderemo qua e saliremo in alcuni minuti per arrivare dove c'è la cattedrale attenti con i borseggiatori la settimana scorsa quando abbiamo fatto questa fermata un clic grazie a tutti